Io condivido pienamente quello che ha detto Peter Lise precedentemente sulla presunta assenza di rischi per la sperimentazione clinica, non esiste sperimentazione senza rischio, pertanto ritengo preoccupante l'aspetto sociale della sperimentazione dei medicinali che interessa soprattutto quelle persone e quelle popolazioni più vulnerabili. Negli ultimi anni infatti specialmente al di fuori dei confini dell'Unione Europea e del Nord America si è verificato un notevole aumento di sperimentazione di farmaci su esseri umani talvolta bambini che erano del tutto inconsapevoli di quanto si stava somministrando. Noi crediamo che si debba usare dei provvedimenti fortemente punitivi per le case farmaceutiche che si rendono protagonisti di queste pratiche. Chiedo a lei ma se ha la possibilità di svolgere controlli adeguati in tutte le fasi di sperimentazione clinica e anche preclinica dei farmaci. E chiedo anche come si cerca di coordinare questi controlli a livello globale, quindi mi allineo a quello che ha appena detto il collega Pieccia, non solo con i paesi europei o il Nord America ma anche con quei paesi terzi dove c'è meno controllo sul territorio ed è quindi più facile adottare queste pratiche sperimentali che sono davvero detestabili. Grazie a tutti.